Torna il conteggio delle giornate con le polveri sottili oltre i limiti e torna dunque l'aria irrespirabile. A Cremona siamo già al sesto giorno consecutivo, unica città della Lombardia ad essere nuovamente ad un passo dall'entrata in vigore del protocollo regionale che fa scattare le limitazioni del traffico. I dati di ARPA Lombardia mostrano che la ripresa dell'inquinamento dopo una breve tregua donata dalle piogge è iniziata l'11 febbraio per proseguire inarrestabile fino a superare il giorno 12 anche il valore di allerta di secondo livello. Ieri, ultimo dato disponibile, c'è stata una concentrazione di PM10 pari a 68.8 microgrammi al metro cubo. A preoccupare sono anche le PM2.5, particolato ancora più sottile e più insidioso, la cui concentrazione ha superato il livello di guardia. Come sempre l'arma è quella dell'attesa, si guarda il cielo tendendo la pioggia, visto che la politica sembra aver esaurito idee al riguardo.